Quanti di voi non ci avrebbero scommesso neanche un centesimo su Fedez e Chiara Ferragni insieme? Galeotto fu il papillon di Witton, il cagnolino della fashion blogger più celebre del mondo, eccoli adesso ad un passo dal matrimonio. E nonostante la proposta in pompa magna e l'anello di fidanzamento accecante, molti ancora non sono convinti che si tratti di amore vero, ma pensano che la liaison tra il rapper e la bella diavoletta 87 abbia a che fare solo con il business. Ipotesi legittima, considerando le cifre da capogiro che entrambi guadagnano, tuttavia c'è chi si dice certo che i due si amino alla follia e vede le nozze come il coronamento del loro sogno d'amore. Parliamo di Lele Mora, l'ex agente dei BIP intervistato da Radio Cusano Campus, che tra gli altri argomenti affrontati in studio ha speso qualche parola sulla coppia d'oro dello showbiz tricolore, dando così a Fedez e Chiara Ferragni la sua benedizione. Mi è sembrata una cosa sincera, ha infatti affermato Lele Mora. Fedez ha raggiunto un grande successo, la Ferragni è ricca di famiglia. Insomma, non hanno bisogno di farsi pubblicità, credo che questo sia un amore vero.